Vuoi essere fidanzata con me? Ci penso su, ok? Mamma! Oh, ma mio figlio poteva roppersi una gamba! Vategli fare ginnastica ritmica. Parli tu che a scuola non avevi nemmeno una sufficienza. Ma chi te l'ha detto? Mamma! Ciao papà! Sono amici africani. Venite. L'anno scorso ci avevi insufficiente in tutte le materie. E quest'anno sono i cinque! Montiamoci la testa adesso, eh? Dai, vai a parlarci. Gli fai pieni, pieni. Come diventare grandi nonostante i genitori. Dal 24 novembre al cinema.